Partiti per il Gran Criterium 2015. Così così il break per Basileus dal gruppone Michele Strogoff per un attimo in vantaggio, subito scavalcato da Escusi Potion. A largo anche Saant che si fa sotto a contatto a Zerka Garbulli, Geras Kest. Più dietro Royal Shahen, Basileus che chiude il gruppo insieme a Beats Heart. Saant che passa prepotente in seconda posizione, Escusi Potion in giubba cerchi bianchi e verdi. Di dentro avanza anche a Zerka Garbulli con la giubba scacchi gialla e blu avendo al suo interno Michele Strogoff. A largo in giubba verde Geras Kest nella coda del gruppo. Royal Shahen in giubba blu con la tracolla bianca all'esterno Basileus in giubba rosa insieme alla giubba strisce di Beats Heart. Cavalli che sono già a metà della piegata finale, tutti dietro a Saant che indica la via. Escusi Potion in seconda posizione con qualcuno del gruppo che è già accompagnato. Con Saant che tira via brillantissimo, prende margine all'ingresso in retta. Al secondo Escusi Potion muove Geras Kest, muove a largo Royal Shahen seguito come un ombra da Basileus. Di dentro Michele Strogoff e Beats Heart, poi a Zekka Garbugli. Saant in fuga sui pedali, prova la sortita a traguardo lontano sul gruppo che adesso organizza l'inseguimento. Al secondo Beats Heart, a largo Geras Kest, poi ancora più all'esterno si impegnano Basileus e Royal Shahen. Saant è in vantaggio ma il gruppo ormai li racciuffati con Beats Heart e Basileus che se la vanno a giocare. Beats Heart all'interno, Basileus a largo. Lo sconto è serrato anche qui con Beats Heart che reagisce all'attacco di Basileus e si invola Beats Heart che vince con classe il Gran Criterium. Basileus al secondo, al terzo Geras Kest davanti a Royal Shahen, Saant e gli altri.